Mi chiamo Sveva Bonomi e mi sono laureata in scienze biologiche all'Università degli Studi dell'Insubria. Oggi, sempre in questo Ateneo, frequento la laurea magistrale in Biomedical Sciences. Perché ho scelto questo Ateneo sia per la triennale che per la magistrale? Perché fin da subito ho trovato un ambiente a misura d'uomo con docenti preparati e motivati che mi hanno accompagnato nel mio percorso curricolare e mi hanno aiutato a creare e ad affrontare anche esperienze extracurricolari che hanno arricchito il mio curriculum e la mia esperienza. Grazie a tutti.